Le attività quotidiane spesso non mi piacciono, tipo andare a prendere caffè, fare cose che fanno tutti, però se sto con qualcuno che mi piace, mi piace farlo anche a me. Di cosa parlano le amiche al bar? Scrive il viso, scrive il viso. Ragazzi Valentina crede che stia imminentemente venendo l'apocalisse. Sì, infatti guardate cosa ho comprato. Questa specie di colazione barra, come si dice, spuntino? Questi sono i filtri. Scusa poi, cioè, non lo so, vabbè. Ho preso quello col plum cake, cioè il coso del parmigiano, cioè dove non esce il parmigiano. Non esce il parmigiano. Fa un cazzo. Vale è una semplice ragazza di 28 anni. 27. 27. Siamo state a scuola insieme dalle scuole medie, più o meno, perché siamo andate a fare fumo scelte come le più brave di tutta la scuola, tra cinque, tra tutta la scuola, per andare in gita a Venezia. E lì ci siamo conosciute, Vale. Ma chissà come. Chissà come. Vabbè, cioè, poi nel senso, infatti, non eravamo affatto le più brave. Eravamo solo quelle che, diciamo, eravamo un po' più figlie di puttane. Fa la gita solo noi affanculo, troiette di merda. Allora, ragazzi, Valentina, quindi, amica mia da? Siamo 14 anni, ora ne abbiamo 14 anni. 14 anni, quindi siamo amiche da 14 anni. Siamo abbastanza diverse tra di noi, anche se nei pensieri, nei modi di pensare. Siamo proprio nero e bianco. Comunque ci vogliamo tanto bene. E ve lo dimostriamo con Valentina che mi dà un bacio. Sara, com'è andata la giornata oggi? Eeeh... Sono giapponese. Eeeh... 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 Eeeh...